Giustizia per tutti! Questa sera, 18 maggio, va in onda su Canale 5 la prima puntata della fiction con Raoul Bova, Giustizia per tutti. Dopo dieci anni trascorsi ingiustamente in carcere, accusato dell'omicidio della moglie, Roberto, ex fotografo, può finalmente cominciare una nuova vita. In carcere si è laureato in giurisprudenza e adesso l'avvocatessa Vittoria gli propone di lavorare per lei. Roberto accetta e sin dalla prima puntata può difendere due clienti. È pronto a difendere un presunto assassino, anche perché l'uomo non è una persona qualunque, ma in possesso di informazioni riguardo alla morte della moglie di Roberto, Beatrice. Nel corso delle tre puntate, ad aiutarlo, ci sarà anche Daniela, la cognata poliziotta. Nel corso della prima puntata, Roberto si occuperà anche di Anna, una poliziotta che è stata accusata dell'omicidio dell'assassino della figlia. Grazie.